Trovare un'associazione che gestisca il Parco archeologico di Laos di Santa Maria del Cedro. A questo puntano l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Aulicino e la sovrintendenza ai beni archeologici della regione Calabria. Obiettivo dei due enti è quello di ridare all'antica città di Laos la possibilità di essere visitata e conosciuta quotidianamente, dando così una spinta anche al turismo culturale. Al momento il Parco archeologico, gestito dagli uffici della sovrintendenza di Scalea, viene aperto e visitato solo su prenotazione, dato che dall'antiquarium hanno un serio problema di sottodimensionamento del personale. Questo in sostanza è il motivo della costante chiusura del sito. Da qui la richiesta da parte del Comune di Santa Maria del Cedro di fare entrare un terzo soggetto nella gestione del Parco archeologico. Secondo il bando che scade il prossimo 6 luglio, le associazioni che possono partecipare devono avere come finalità la tutela, promozione e valorizzazione dei beni presenti nel parco e, clausola fondamentale, la presenza di almeno un associato che conosca la materia. Altra condizione imprescindibile è l'apertura del sito per almeno tre giorni la settimana, per non meno di tre ore al giorno durante l'anno e tutti i giorni durante i mesi di luglio e agosto. Le attività di cui si dovrà occupare il nuovo gestore comprendono accoglienze e informazioni al pubblico, attività didattiche, sorveglianze e archiviazione, inventario e catalogazione di tutto il materiale, cartaceo e archeologico. Si tratta, detto il sindaco di Santa Maria del Cedro, Giuseppe Aulicino, di un progetto sperimentale della durata di 12 mesi, prorogabili in caso di risultati positivi. Appena chiuse il bando procederemo in maniera spedita all'assignazione della gestione, sperando di partire già dalla fine del mese di luglio. Soddisfazione anche dei banchi della minoranza consigliare, che avevano sollevato il problema della chiusura del parco archeologico da tempo. Questa iniziativa ci conforta, fa sapere il consigliere di opposizione Andrea Napolitano. Appoggiamo il progetto dell'amministrazione con gioia, ma controlleremo che l'aggiudicazione del bando avvenga nel pieno rispetto alle regole. L'unico neo che dobbiamo far notare alla giunta Aulicino è il poco tempo, solo due settimane, che è stato dato alle associazioni per studiare la convenzione o, eventualmente, crearne una doc per la gestione del sito. Un sospiro di sollievo anche dagli uffici della sovrintendenza di Scalea. Era l'unica soluzione praticabile, commenta Gregorio Aversa, responsabile della sede Scaleota, e risolverebbe almeno in parte il problema occupazionale che stiamo avendo in questo periodo. Noi continueremo ad occuparci della manutenzione dei reperti. Grazie a tutti.